I fiumi, in particolare il Candigliano e la Gola del Furlo, sono molto frequentati, specialmente d'estate, per cercare un po' di relax e refrigerio. Non tutti però sanno che i corsi d'acqua, naturali o artificiali, possono nascondere tante insidie. Questi ambienti, infatti, sono ben differenti dalle piscine o dall'acqua marina dove impariamo a nuotare ed è importante saper riconoscere i possibili rischi. Sarebbe bene innanzitutto andare nei posti in cui si tocca perché il fiume crea vortici o mulinelli che trascinano in profondità e dai quali è difficile riemergere. Un altro pericolo dell'immersione potrebbe essere quello dei sifoni, che sono dei passaggi più o meno grandi, posti sotto un ostacolo, come ad esempio un grande masso. In questi punti la corrente diventa più forte e una persona potrebbe essere risucchiata nel sifone e rimanervi incastrata. Nei fiumi, in pianura, attenzione alla terra, simile a sabbie mobili. Altro aspetto da non sottovalutare sono le correnti fredde. Queste possono far esaurire velocemente la forza fisica. Si potrebbe verificare inoltre un improvviso abbassamento della temperatura corporea, soprattutto se fino a poco prima si è stati sotto al sole o è stata praticata dell'attività fisica. Così come il mare poi, anche nei fiumi e nei laghi, vige la regola di aspettare almeno tre ore dopo i pasti prima di entrare in acqua. Altra cosa estremamente importante è il divieto dei tuffi, perché non sappiamo la profondità dell'acqua e soprattutto se ci sono dei massi nel fondale. Bisogna tenere d'occhio, infine, le condizioni meteo. Infatti, mentre a valle ci può essere sole, in alta montagna può scatenarsi un forte temporale che a volte provoca un improvviso aumento della portata d'acqua che, quando è consistente, trascina con sé tutto ciò che trova. A volte, dunque, fare attenzione ai piccoli accorgimenti ci potrebbe salvare la vita.